ciao a tutti oggi andremo a parlare di come si è risolto il problema di call of duty modern warfare remastered per console ps4 che come ben dovreste sapere in questi giorni ha dato problemi a tutti gli utenti che avevano effettuato il preordine e avevano inserito il codice prima del tempo per poter assicurarsi questo titolo con un mese di anticipo allora scorriamo un attimo il menu ragazzi se tutti quanti voi vi ricordate come era andata a finire la situazione cioè che c'era stata la notifica da parte di sony sul psn eccola qui la voce dove diceva notifiche importanti accesso all'anticipato a call of duty modern warfare remastered e noi cliccavamo sopra è semplicemente ci diceva di schiacciare il tasto x ma non accadeva nulla in realtà deve esserci stato qualche errore con l'inserimento di tutti i codici vecchi che sono stati messi i codici quelli là che sono stati inseriti prima del tempo e infatti sony penso che poi abbia risolto il problema come facendo questo questa operazione è stato reinviato di nuovo il messaggio e come vedete c'è lo spunto apposta del 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 playstation store che vi permette schiacciando il tasto x di andare effettivamente su un'altra pagina infatti come ben potete vedere dal video e in questo caso nel mio caso ma come sicuramente anche nel caso di molti di voi è stato reinserito un nuovo codice che vi permetterà di 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 sbloccare il contenuto che avevamo preordinato con un altro codice voi comunque semplicemente cliccherete x io attualmente lo sto già scaricando si è sbloccato qualche qualche un mezza giornata fa più o meno oggi è giovedì se si è sbloccato mercoledì pomeriggio quindi non il giorno 4 come dice il coupon ma bensì un giorno dopo quindi il giorno 5 pomeriggio mi sembra intorno alle 18 ovviamente qui vedete che scarica non mi permette di cliccarlo perché io il gioco lo sto già scaricando e adesso vi faccio anche vedere un attimino come come sta avvenendo il download ecco qui scorrendo qui un attimo solo che si è impallato un attimino solo il joypad ok andiamo sulle notifiche eccoci qua andiamo su download cosa accade ecco nel frattempo lilli è scappata su download come potete vedere ci sono due barre di scaricamento una già è stata completata perché ho avviato il download ieri e come ben molti dovreste sapere o magari diamo queste informazioni anche a chi non lo sa se sul pacchetto da scaricare di 43 giga circa 42 43 non ricordo è bello pesante quindi cosa hanno fatto l'ho fatto in modo che voi scaricando una prima parte che equivalente sembra intorno ai 10 12 gigabyte poi vi permetteva di poter cominciare almeno a giocare nell'attesa di scaricare il gioco completo quindi l'ho lasciato tutta la notte perché purtroppo una connessione un po lenta ragazzi io poi magari che qualcuno di voi avrà una fibra sarà anche molto molto più veloce comunque una volta scaricata la prima parte mentre è in attesa di scaricare tutto il restante del gioco come state vedendo voi potete già cominciare a giocarlo poi semplicemente cliccherete qui avvia e il gioco partirà ecco qui se qualcuno di voi colgo l'occasione appunto vedere se qualcuno di voi ha ancora il problema non è riuscito a risolvere vi invito a contattare toni perché comunque è un problema che è scaturito proprio da sony stessa quindi dovreste risolverlo alla miglia maniera oppure se nel caso commentate qui sotto in modo che possiamo vedere se possiamo aiutarvi in qualche modo a risolvere il problema se qualcuno di voi riesce addirittura ad ottenere un codice nuovo dal gamestop qualcuno ci è riuscito potete anche tentare appunto se l'avete acquistato tramite gamestop potete anche appunto cercare di farvi dare un nuovo codice tramite il vostro store o magari media world o qualcun altro dove avete effettuato il preordine però il problema è inerente sony quindi l'email oppure la segnalazione va mandata esclusivamente a sony perché il problema come l'hanno risolto a me l'avranno risolto a molti altri di voi qualcun altro purtroppo penso che possa ancora avere il problema l'unico modo è contattare appunto sony ragazzi se il video vi è servito se vi servono altri aiuti ce lo fate sapere non dimenticate di commentare se vi serve altro aiuto come vi ho già detto prima oppure raccontandoci la vostra esperienza e se il video vi è piaciuto lasciate un like e ci vediamo alla prossima ciao